Vaccini anti-covid procedono a rilento le somministrazioni. Secondo alcune stime, con questo ritmo, il Trentino completerà la campagna vaccinale dopo l'estate del 2023. Coronavirus altri 400 positivi nelle ultime 24 ore in Trentino e 3 morti. Attesa per la nuova valutazione. Fugati. Dall'indice RT la possibile classificazione arancione. Intanto per l'Unione Europea rimaniamo rosso scuro. Sui contagi massima attenzione sul territorio di Giovo in Val Dicembra per l'aumento dei positivi. Confronto in corso tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria. Restrizioni e controlli delle forze dell'ordine. Il titolare del pub Flambard a Trento Sud, raggiunto da una multa e da un ordine di chiusura per 5 giorni. Fuori dal locale, in 6, bevevano birra. Le mascherine abbandonate con il progetto Si chiama Coach 19 diventano un divano. Il progetto del Trentino Zambotti. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730 Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.